La ricerca ENAIL sbarca negli Stati Uniti. Ha preso ufficialmente il via in questi giorni, infatti, uno studio scientifico in ambito protesico che nell'arco del prossimo triennio coinvolgerà il Centro Protesi di Budrio, il Minneapolis Veteran Administration Health Care System, struttura ospedaliera e di ricerca per i militari americani e la Northwestern University di Chicago, a cui spettano le funzioni di coordinamento. Obiettivo del progetto, finanziato con circa 2,5 milioni di dollari, di cui quasi 800 mila destinati al centro ENAIL, attraverso un bando del Dipartimento della Difesa USA, è il miglioramento di forma, adeguatezza e comfort dell'invasatura personalizzata delle protesi di arto inferiore, per influire positivamente sulla qualità della vita delle persone che la utilizzano. Per la nostra attività di ricerca, spiega il Presidente dell'INAIL Franco Bettoni, questa iniziativa rappresenta un'importante apertura anche a livello internazionale dei percorsi di collaborazione con altre realtà di eccellenza avviate negli ultimi anni, che puntano allo sviluppo di dispositivi sempre più evoluti, sia per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia per la riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo degli infortunati. Resistenza alla fatica, potenza muscolare, coordinazione e precisione nei movimenti, tutto questo si può ottenere con piccole non invasive vibrazioni applicate ai muscoli. Si tratta di una metodica che già trova applicazione nella clinica, ma il cui campo di azione si potrebbe espandere ulteriormente, sia nella riabilitazione che nello sport. Lo studio, i cui risultati sono stati già pubblicati sulla rivista Biology of Sport, coordinato dal professor Guido Maria Filippi, Dipartimento di Neuroscienze dell'Università Cattolica Campus di Roma, diretto dal professor Claudio Grassi e svolto in collaborazione con i professori Luigi Fattorini e Angelo Rodio dell'Università Sapienza di Roma e di Cassino, ha testato nuove potenzialità della metodica su alcuni soggetti. Le implicazioni appaiono importanti, oltre che nello sport e anche nella riabilitazione. Il trattamento somministrato con uno strumento ad hoc denominato Crossy System consiste in sequenze di microallungamenti e accorciamenti del muscolo 100 volte al secondo per 30 minuti al giorno, per 3 giorni consecutivi. Il paziente percepisce solo una leggera vibrazione. La settimana bianca è ormai diventato un must, quasi irrinunciabile e in molti presto si riverseranno sulle piste per praticare lo sci o lo snowboard. Spesso però si sottovalutano i rischi, piccoli e grandi infortuni infatti possono celarsi dietro l'angolo come fratture o infiammazioni su tutte le borsite. Cos'è? Si tratta dell'infiammazione di una borsa, ossia una sacca di liquido situata sotto la pelle in genere in corrispondenza delle articolazioni che agisce come cuscinetto tra tendine e ossa. Può colpire le spalle, i gomiti o le ginocchia ma quando si praticano sport invernali come lo sci, lo snowboard, lo sci di fondo e il trekking ad essere maggiormente a rischio è l'avampiede causando gonfiore, dolore ed irritazione. È fondamentale la scelta dello scarpone e della soletta personalizzata da inserire al suo interno, spiega Nicola Delbianco, medico, chirurgo, specialista in ortopedia, traumatologia e chirurgia del piede. Qualora il soggetto abbia già un allucevalgo lievo moderato per evitare di incorrere nella borsita e consiglio l'utilizzo di piccoli tutori diurni o notturni che vanno a coprire con uno o due strati di silicone lo spazio interessato evitando il contatto tra le epidermi dello scarpone. L'Italia è il fanalino di coda in Europa nei lasciti testamentari. Nel nostro paese purtroppo questo argomento è considerato ancora un tabù. Per questo serve diffondere una cultura diversa come accade già all'estero dove sul tema viene fatta un'educazione fin dalle scuole. A dirlo è il presidente dell'Aism Francesco Vacca intervistato dall'agenzia Dire in occasione della settimana nazionale dei lasciti Aism che prende il via con il lancio della campagna di sensibilizzazione Tu sei futuro. Gianluca Abate, consigliere nazionale del notariato, aggiunge i lasciti solidali sono disposizioni con le quali una persona decide di devolvere determinati beni per un fine di solidarietà sociale. Ad oggi sono circa 1.900.000 gli italiani che si sono dimostrati interessati ad avere conoscenza su questo strumento e circa 900.000 hanno già posto in essere delle disposizioni animate da un fine di solidarietà sociale. Non è possibile fare un identikit specifico delle persone che hanno predisposto un lascito solidale ma quel che si può dire è che dal 2013 c'è stato un aumento delle disposizioni da parte di giovani e donne. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it